Deve esserci un ordine per saltare sulle pietre senza farle crollare. Però, quale può essere? Sai decifrare questi glifi? Sì, quasi tutti, credo. Tu credi? Non dirmi così, devi farlo. Perché magari il significato dei glifi è la nostra salvezza. Cac, quello significa fuoco. Jun, vuol dire libro. E la pietra su cui siete, Balaam. Balaam significa giaguaro. Izamna iguana. Hai detto giaguaro, vero? È il secondo animale? Sì, cosa ha in mente? Penso che Olmec intendesse questo quando ha detto... Com'era? Camminare con gli animali tra le nuvole. I glifi di animali sono sicuri. I glifi di animali sono sicuri. Sì, sono quelli sicuri. Questo è il piano. Ok, ora camminiamo con gli animali tra le nuvole. Sì, ma facciamo in fretta, per favore. B, strada. Dai, puoi farci. Sam, trono. Bats, scimmia. Bene, funziona. Ewal, nessuna idea. Quazzal, è il papagallo. Bravo, stai andando alla grande. Vitz, barracuda, no! È quello, è la tartaruga. Quello, l'airone. Continua così, bravissimo. Suck, rana gialla. Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, ora presto, no. Dicci dove dobbiamo andare. Mouan, a destra. Quella lì, cuffo rosso. No, l'altra pietra. Sì, quella avevo detto. Ma certo, che stupida. La prossima, per favore. Un attimo, sto cercando. Ti ho in fretta. Eccola, Suck, rana gialla. Non ce la faremo da qui. Saltiamo su quella pietra e prima che crolli saltiamo sull'altra. Cosa? Tranquillo, possiamo farcela, pronto? Tosata! Uah! Tosata! Tosata! Ah!